fratello lupo un giorno Francesco andò in visita nella città di Gubbio ma la trovò deserta tutti erano chiusi in casa per paura di un grosso lupo decisero di chiedere aiuto a Francesco Francesco ti prego aiutaci Francesco accettò e andò a parlare con il lupo fratello lupo dove sei? fratello lupo ti ordino di non fare più male a nessuno Francesco fece il segno della croce in bocca al lupo e il lupo capì da quel giorno il lupo diventò amico di tutti e tutti si presero cura di lui fratello lupo fratello lupo fratello lupo fratello lupo Grazie a tutti